come mancava di mio amore ma come direttore eh così non rompe i coglioni non mi amoleste il mosquito non mi amoleste il mosquito non mi amoleste il mosquito when don't you go direttore ti giuro lo volevo chiamare ma perché? cosa è successo? era fede è impazzito ma perché ha risposto così? ma non lo so non lo so sembri il bambino che mette le dita nella nutella ma no 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 non lo so aspetta aspetta ma guarda chiede il sequestro chiede questo nastro ma perché? cosa stai facendo? non lo so è il bambino sei il bambino che rompe il vasetto di nutella la mamma dice Giuseppino dove era la nutella? non lo so non lo so tutta rotta per terra cosa hai fatto? mi amore direttore? fatto? direttore sì come stai? direttore grazie come stai? bene bene non lavori? come? non lavori? lavoro sì sono qui ai centri sociali come ai centri sociali? spazzo il palazzo montecitorio di tutti i corrotti è il tuo capo? il mio capo guida 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 il paese no non guida più paese condannato 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 e voi voi strozi potete fare niente sto dando andare per fare puttana con mamma ma che potete? vaffanculo dai su se ti diverte va bene ti vuoi fare insultare sono pronto a fare qualunque tipo di insulto ti vada salve grazie